Allora, questa prima fase del cantiere che riguarda il tratto da Piazza Nasoni alla rotatoria di Bacchereccia è in fase di conclusione. Manca sostanzialmente l'asfaltatura dei marciapiedi e questo poi ci consentirà di riaprire in sicurezza e renderli fruibili e ridare il doppio senso di circolazione. Poi nella seconda fase del cantiere passeremo nel tratto che va davanti poi al circolo del pontale Forche per capirsi, dove si procede all'allargamento della sede del marciapiede e questo consentirà di proseguire quella che è l'attuale ciclabile che viene dal sottopasso e dargli continuità con quel tratto che abbiamo realizzato adesso. In ultimo si passa al tratto che va davanti alla cantina sociale e sulla rotatoria sul ponte di Bacchereccia per concludere poi l'intervento del tratto cittadino come si diceva nel mese di settembre.